Priorità assoluta dei cittadini disoccupati, inoccupati e degli studenti non lavoratori. La Commissione elettorale del Comune di Fano, composta dal sindaco Massimo Seri, dai consiglieri comunali e Rosetta Fulvi del PD, Mattia De Benedittis della lista civica Noi Giovani e Aramis Garbatini di Progetto Fano, ha stabilito i nuovi criteri di nomina degli scrutatori in occasione delle prossime elezioni regionali. Sì, abbiamo convocato la Commissione elettorale, mi sono permesso come sindaco di avanzare la proposta di scegliere e di nominare i scrutatori per le prossime elezioni regionali tra coloro che non hanno un lavoro, che sono disoccupati o studenti che non lavorano, proprio per dare un segnale anche considerando il periodo che stiamo attraversando, penso che un'amministrazione deve avere questa sensibilità, in passato non è mai stato fatto, la Commissione ha accolto questa proposta, quindi gli oltre 270 scrutatori saranno scelti, una metà li sorteggeremo, quindi daremo anche una possibilità a tutti coloro che non hanno delle elezioni, una parte li nomineremo scelti tra quelli che sono iscritti e che hanno queste caratteristiche. Questo significa che il 50% degli scrutatori, 136 effettivi e 30 supplenti, verrà nominato tramite sorteggio, tra coloro che iscritti nell'apposito albo si trovino nelle condizioni di disoccupazione e di inoccupazione risultante dall'iscrizione al centro per l'impiego e di studente non lavoratore, mentre il restante 50%, 135 effettivi e 30 supplenti, verrà nominato dalla Commissione stessa a fine di garantire la presenza di un'adeguata professionalità nei singoli seggi elettorali, ma anche in questo caso coloro che saranno individuati direttamente dovranno trovarsi nello stesso stato dei primi. Per poter partecipare al sorteggio è necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio elettorale del Comune di Fano entro le ore 13 di venerdì 24 aprile utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fano o disponibile direttamente all'ufficio elettorale. Sarà poi cura dell'ufficio stesso procedere alla verifica delle domande presentate prima che la Commissione si riunisca per il sorteggio e per la nomina ufficiale. Quindi penso sia anche una bella risposta, si dà una possibilità a chi in questo momento magari ha delle difficoltà maggiori rispetto ad altre.